sembra tu conosca questo posto meglio di me quindi non c'è motivo di spiegarti cosa fare dico bene la 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 Molte anime sono imprigionate al suo interno La cattedrale sembra assorbire il suo potere demoniaco da loro Liberale e potremmo avere una possibilità Se vedi l'imbroglione ti conviene caricare la super corazza La cattedrale sembrava che si vedi l'impuglione La cattedrale sembrava che si vedi l'impuglione La cattedrale sembrava che si vedi l'impuglione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.